E ho conosciuto questa nuova donna che si chiama Giorgina e Ronaldo Junior vuole sapere chi è Giorgina, occasione unica la Ferrari o l'Audi RS7. Primo appuntamento con Giorgina. Ciao cara, come stai? Tutto bene? È un po' che non ci vediamo, eh. Ronaldo, hai preso... Quando ti piace la Sprite, Ronaldo? Sì, la Sprite, ragazzi, si è preso una Sprite, Ronaldo. Parita, è proprio partita la serata incandescente, siamo arrivati in discoteca, come te siamo proprio in mezzo al mucchio. Cosa le 7 di mattina hanno fatto? Soprattutto perché l'Audi è nel giardino, perché? Ciao ragazzi e ragazze, qua è Magozzo, come state? Spero andate tutti alla grande e benvenuti in questo nuovo video molto molto importante. Già, perché importante? Perché avevo chiesto ad alcuni di voi, e poi c'è un'altra cosa che si sta a tutti. Se dovevamo rendere più reale la serie, ancora di più di quanto già non lo foste, aggiungendo Giorgina Rodriguez, cioè la vera fidanzata di Cristiano Ronaldo, su GTA. Quindi, ragazzi, ho cercato di fare il possibile, nel minor tempo possibile, e cercare di aggiungerla su GTA. Infatti, ragazzi, ce l'abbiamo. Oggi Ronaldo, diciamo, cercherà di conquistarsela, più che conquistarsela, ormai si sa che Giorgina è innamorata di lui, e lui è innamorato di lei, e io sono innamorato di lui, e lei è innamorata di me, di lui. No, non è vero, ragazzi, sto improvvisando. Sono innamorati, ragazzi, quindi penso che si fidanzeranno. Per cui, la cosa importante è che, siccome ci ho messo veramente molto per farla, ragazzi, Giorgina, guardate il video fino alla fine, in modo tale che mi potete dire se vi piace, se è fatta bene, nei capelli, nel fisico, nei movimenti, insomma, in tutto quanto. Anche perché Ronaldo e Giorgina, a fine video, finalmente insieme, speriamo, ancora Ronaldo combina l'anni, saluteranno le ultime 5 notifiche di Instagram. Per cui, mi raccomando, in descrizione, basta che cercate Chiocciola Real Anthony, e mi potrete seguire per essere salutati da me, da loro, da lui, da su, da giù, insomma. Venitemi a seguire, che ci tengo. Ok, ragazzi, come vedete, sono oggi al top. Attenzione, Ronaldo, un Ronaldo di spalle. Sono le, che ho reso, uno che dovremmo essere, ecco, sono quasi le 8. Perché, ragazzi, alle 8 abbiamo un appuntamento con Giorgina, faremo una passeggiata qui giù, dove sta Vinewood, dove stanno anche il cinema, il bowling. Quindi, diciamo, per questo appuntamento ho intenzione di portarla al bowling, poi andremo a mangiare, e poi, non so, magari teca, non so, ragazzi. Ma vediamo cosa ci inventiamo al momento. Quindi, ragazzi, come vedete, sono molto, molto gasato. Ronaldo oggi si è vestito, ovviamente, bene per l'occasione. Cioè, guardate, porca miseria, sembra che deve andare, non lo so, al matrimonio. Però, ragazzi, sapete che Ronaldo in queste occasioni si veste sempre. Se non fosse che Ronaldo Junior, ragazzi, mi sta letteralmente scassando l'anima, dicendo, perché ormai, ragazzi, a Ronaldo Junior gliel'abbiamo detto che, guarda, Ronaldo Junior con Samantha, la mamma originale di Ronaldo Junior, ci siamo lasciati, perché sì, ci abbiamo riprovato per qualche mese, ma non è andata come speravo. E ho conosciuto questa nuova donna che si chiama Giorgina, e Ronaldo Junior vuole sapere chi è Giorgina, chi è, ma chi è, insomma. Ragazzi, ancora non gli ho detto niente, perché deve rimanere un segreto, a meno che, cioè, fino a che non è sicuro. Quindi, magari dopo stasera io dico, quindi Ronaldo Junior, senti, vuoi essere buttato in piscina? Tieni, vai. Plaf! No, scappo, prima che mi, prima che si incazza. Però, ragazzi, quando verrà Giorgina a casa, sicuramente la prima cosa che dobbiamo fare è dire a queste ragazze qui che vengono santuariamente a casa mia, con cui abbiamo, vabbè, meglio se non volevo dire, insomma, di andarsene, perché poi Giorgina sarà la ragazza seria. Ok, allora, ho dato il via libera alle guardie di prendersi la serata libera, perché tanto Ronaldo Junior poi ha detto che usciva anche lui, quindi ho dato le guardie via libera per prendersi una serata, anche perché, ragazzi, sono 24 ore su 24 a casa mia e, poverini, anche loro hanno bisogno ogni tanto di un po' di tregua, anche se ho detto ad alcune di loro di passare ogni tanto da casa per vedere se tutto è a posto. Ma, ragazzi, ultimamente i furti di auto e tutto si sono placati. Bene, la cosa importante adesso, la Ferrari per un'occasione unica. Non so se hai sentito, ma mi sono schioccato un osso, perché mi sto incazzando. Per un'occasione unica la Ferrari o l'Audi RS7? Bene, allora, la Ferrari, ragazzi, direi che è più sportiva, però l'Audi RS7, dato l'outfit come suono elegante, direi che l'Audi è un po' più elegante della Ferrari. Magari fossi vestito in Supreme, vi avrei detto prendiamo la Ferrari, però, ragazzi, secondo me l'Audi ci sta mille volte meglio. Infatti, guardate che bomba di auto! Cioè, chi è che non la vorrebbe? Dai, siamo sinceri, è bellissimo. Va bene, basta, bando alle ciance, ragazzi, dobbiamo andare al nostro primo appuntamento con Giorgina. Quindi dobbiamo parcheggiare vicino Winewood, ci troveremo di fronte al cinema per farci una passeggiata e stare insieme. Parcheggiare la macchina, vabbè, parcheggiamola qui, come vedete, qui c'è sempre molto, molto posto. Allora, mi sa che l'abbiamo... Non so se l'avevo vista, vabbè, comunque, chiudiamo la macchina. Avevo dato appuntamento a Giorgina, lì, al Pink Sandwich, che è, ragazzi, un locale dove si mangia, e quindi abbastanza buono, devo dire. Ciao, cara, come stai? Tutto bene? È un po' che non ci vediamo, eh? Beh, dai, Ronaldo, non fare il timidone. Cioè, ragazzi, devo dirlo, sicuramente Ronaldo sta un po' timido, questo è sicuro. I capelli sono stati abbastanza facili, no? Però cercare di farla, no? È stato un po' un problema, perché purtroppo Giorgina, ragazzi, non ha foto di fronte, così, come mi vedete a me adesso, perché per poterli riprodurre su GTA servono delle foto in alta qualità e soprattutto che siano belle centrate, come mi vedete tipo a me in questo momento. Purtroppo quelle di Giorgina, ragazzi, non esistono. E Ronaldo già si sta mettendo a lavoro perché sa cosa vuole fare, comunque. Scherzi a parte, Giorgina, ditemi se vi piace, ragazzi, perché fisicamente è perfetta, i capelli sono perfetti, la faccia anche ed è stata un po' difficile. Quindi, sì, ragazzi, confermato, stiamo andando a mangiare il Burger King, quindi ritorniamo in macchina e Giorgina ha detto che per lei va benissimo se andiamo a mangiare, mangiare un boccone, perché anche a lei piace il Burger King, anche se sono curioso di andare al McDonald's. Perché si è messa dietro? Ragazzi, siamo arrivati tanto al tempo di un boccone e ci ne andiamo via, anche perché Giorgina ha detto che non si vuole manco sedere, cioè a lei piace molto la scialla, stare insieme a noi, quindi me la vedo molto eccitata. Dai, comunque dovremmo andare a un McDonald's ogni tanto, quindi ogni volta voglio andarci, ma mi scordo sempre. Sì, salve, senta, per me tre panini vanno bene, il solito, tanto tre panini costa un dollaro, quindi, cioè uno costa un dollaro, quindi dai Ronaldo, e sfamate quei panini, porca miseria, così stasera sei bello pompato. Grazie il primo, spariamoci il secondo. Mamma mia, proprio ingozzato, proprio come un animale, devo dire. E il terzo. Avrò preso, allora qui ragazzi c'è Sprite, Coca-Cola, vabbè Ghiaccio, Fanta e Coca-Cola Light. Vabbè ragazzi, sapete che vi dico, mi prendo anche io una soda, perché non voglio far bere assolutamente Giorgina da sola, quindi fatemi prendere qualcosa da bere. Una cosa è una Sprite? Ronaldo, hai preso la cosa? Non ti piace la Sprite, Ronaldo? Sì, la Sprite, ragazzi, si è preso una Sprite, Ronaldo. Oddio, l'ha buttata! No! Ok ragazzi, mentre siamo arrivati, vabbè, siamo arrivati, entriamo lì a Obama, mamma, sì, è uno dei locali più belli, no? Ronaldo e Giorgina stavano parlando tra di loro che volevano trascorrere la notte insieme, cioè ragazzi, questi già si stanno per fidanzare, vabbè, comunque, ora penso che andremo a ballare, andranno a ballare, perché si divertiranno insieme, faranno bordello, anche perché non vedo molta coda, sinceramente, per cui meglio così, così possiamo entrare subito, senza fare tanta coda, anche perché in ogni caso sono nella lista degli ospiti, quindi in ogni caso posso entrare subito. Salve signora, come dice? No, guardi, io sono l'ospite d'onore, cioè sono Ronaldo, vi pago lo stipendio, quindi non devo pagare niente, ok? Salve, arrivederci. Ronaldo, sei un po' cattivo però, Quanto pare Giorgina non vuole niente da bere, anche perché direbbe ho già mangiato, quindi ora dovremmo andare in pista e spaccarci, mamma mia! Guardate un po', ragazzi, Giorgina non voleva niente da bere, quindi l'ho preceduta, sono arrivato qua, adesso dovremmo iniziare a ballare, ci mettiamo molto belli e tranquilli, anche perché a quest'ora c'è gente tranquilla, quindi nessuno ci rompe con foto, eccetera, a parte questo tipo qua che ci ho appena visto, sì sì, sono Ronaldo, ciao ciao, oggi è Giorgina, Giorgina vuoi venire qua? Parita, è partita, la serata incandescente, siamo arrivati in discoteca, come dice, siamo proprio in mezzo al mucchio, c'è un botto di gente, ovviamente ci hanno circondati perché siamo Ronaldo, c'è anche Giorgina, poi Giorgina comunque un ragazzo, è una bella modella, quindi chi è che non la conosce? Sta il bordello, il DJ set sta facendo il bordello, c'è stato un DJ set pazzesco, della, della, proprio pauloso, il DJ sta mettendo canzoni assurde, insomma ci stiamo divertendo veramente un botto con Giorgina, quindi ragazzi, penso che adesso dovremmo lasciarli comunque a loro, anche perché da quello che ho capito si sono fidanzati, il tutto mentre ballano, qui c'è un tizio che sta dando i complimenti a Ronaldo, non so se l'avete visto, quello che si sta traganando la birra qua vicino, poi c'è anche più bella di Jasmine, di viso secondo me, quindi ragazzi, perché Jasmine è un po' con un po', ha un po' gli occhi a mandorla, sì, bene, e quindi io direi di lasciarli alla loro serata e chissà che ora si ritireranno, ok ragazzi, momento di attenzione, siamo rientrati in casa, Giorgina si è stesa sul letto perché poverina non ce la fa più, penso sia ubriaca, praticamente dopo avermi sporcato il cesso, Ronaldo penso sia ubriaco, non so perché cammina in questo modo, ma che ore sono? Cosa le 7 di mattina hanno fatto? Ho perso pure una voce, non ci credo, non è possibile, e soprattutto perché l'Audi è nel giardino, perché? Non mi dite che tipo, ho sfondato lì con l'Audi e sono arrivato direttamente là, oh mio Dio, però non presenta segni di ammaccature o altro, vabbè ragazzi, forse dovrei andarmi a mettere anche io a letto perché sono veramente stanco, ragazzi, direi che il video è finito qui, se vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollicione in su, condividete il video con i vostri amici perché finalmente Ronaldo e Giorgina sono insieme, finalmente sono fidanzati, fatemi sapere se vi è piaciuta Giorgina, con i commenti quello che vorreste vedere e non dimenticate sostanzialmente di iscrivervi al canale, così potete vedere tutti i prossimi video inediti, che adesso questi due ragazzi mi faranno di tutti i colori, vi ricordo che se dovete essere salutati in tutti i prossimi video da me su Instagram, ragazzi avete la possibilità di farlo, fate come Ronaldo che è da sbronzo, anche da sbronzo ragazzi, viene qui sul suo Instagram e mi viene a seguire, quindi mi raccomando, ragazzi semplicemente cercate Chiocciola, Rialentoni, cercatemi, Ome o Omega come vi preferite, o Rialentoni, Omega, mi venite a seguire ragazzi e in questo modo potrete essere salutati in tutti i prossimi video, facile no? Bene, direi che per questo video è tutto ragazzi, sono ubriaco come lo schifo, dovrei riposarmi sul divano, povero Ronaldo, per questo video è tutto, grazie a tutti per la visione, Giorgina e Ronaldo ora sono fidanzati, spero che siete tutti contenti, qui è megozzo grazie per la visione e ci becchiamo al prossimo video, ciao!